L'Innovation Village è il gemello di Startup, sostenerlo perché le azioni di accompagnamento, le azioni di rapidità con cui le Startup nella loro velocità meritano di essere evolute richiedono una presa di posizione delle policy di questo genere. L'Innovation Village è un'occasione, non lo è solo per Regione Campania, ne siamo la comprova noi con questa presenza massiccia e vibrante della Puglia e la bellezza di ecosistemi che in una maniera paritetica evolvono ritrova in occasione di questo genere la sua massima espressione a mio avviso.